Io non vi dico altro, quest'oggi parola d'ordine, sfondiamo sti due E magari ci sfonda perché sai che poi Mostrate realmente quello che sapete fare E' l'unica cosa che la sua mente processa Tenite sotto Giuseppe però se non, allora se mi pigli sempre e solo a me non va bene Gianfra ma io sto davanti ma che vu Mamma mia Mamma mia Sì 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 ok ok Bravo Giuseppe bravissimo Bravo Giuseppe Maronna Mirko dove sta? Mirko vieni 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 Che vengo? Dove vengo Gianfra? Vieni Ma perché faccio sempre sta co? Maronna non ci credo Buono Gianfra hai scarrato tutto Guarda Mirko Guarda Mirko Guarda Mirko Guarda Mirko Mangi che buono Mangi che buono Guarda Mirko Guarda Mirko Guarda Mirko Mannaggia Guarda Mirko come sta dietro Vai 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 Stanno appiccino a tutte e due Buono Stai due litiganti il terzo gode Vai 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 Sì godi con questo allora Mirko Mirko Oh no no Vieni Vieni su piano Vieni 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 su piano Mannaggia guardate se l'ho chiappo Vai 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 Grazie a tutti.